buongiorno sure e buongiorno sure benvenuti in questo nuovo video come state spero tutto bene oggi video in collaborazione con anna luisa per la festa della mamma quindi vi consiglio qualche gioiellino di anna luisa questo è il mio pacchettino lo sapete che i loro gioielli sono veramente belli non diventano neri rimangono lucidi nel tempo sono fatti con materiali che rispetta l'ambiente hanno due anni di garanzia e rimangono sempre brillanti io su o questa collana dio settate eccola qui si vede sì eccola qui questa collana che tengo sempre su poi quando esco il sabato la domenica aggiungo le altre collanine e niente mi piacciono tantissimo o gli orecchini come potete vedere e non li tolgo mai mi lavo i capelli e tutto quanto rimangono sempre stupendi sono veramente di ottimo materiale allora mi hanno inviato quattro pezzi e quindi per la festa della mamma regalate un bel gioiello anna luisa hanno sempre delle su dei super prezzi a partire mi sembra 39 dollari mano se mano anche una parte nel sito dove ci sono sempre gli sconti quindi date sempre un occhio a proposito vi stavo dimenticando come sto con questa parrucca così scura e che ha un po di violetto dentro io mi vedo stranissima non mi piaccio molto poi anche forse perché c'ho la franga allora ho fatto una fatica a metterla perché ho tanti capelli dietro c'ho un bozzone però voi non lo vedete niente e quindi niente proseguiamo con i gioielli di anna luisa allora guardate intanto come arrivano quindi in questa bella bustina bellissimo per fare un regalo se non vi piace che arriva in questa scatola voi le ordinate subito oggi appena vi lascio il mio codice sconto che è deboras 20 e vi arriveranno subitissimo e voi li prendete e fate un bel pacchettino con un bel fiocchetto quindi li trovate qui dentro quindi con questi ganci automatici che sono molto comodi e queste bustine io le adoro per quando vado in canza perché mi metto dentro tutti i miei gioiellini non si perdono ognuno c'ha la su il suo posto ed è sono super comodi non si rovinano perché vengono riposti non si perdono soprattutto allora io ho scelto questo questo orchino in pratica ci fanno scegliere dieci si con la molletta qua dieci tra collane insomma quello che vogliamo una decina poi loro scelgono quindi in questo caso hanno scelto loro per me in base a quello che gli ho mandato io ovviamente quindi io ho scelto questo orecchino vedete spero che si eccolo qua che si veda con la spilla da una parte e dall'altra un punto quindi prende due o due orecchie mi piace tantissimo e così rimane con la col suo ciondolino poi vi metto le foto che l'indosso quindi li vedrete come stanno spesso il primo quindi singolo poi guardate questo quanto è piccolino ma quanto è bella la sua custodia e qui troviamo vediamo ok un altro orecchino aspettate che vi faccio vedere bene ecco potevo aprirli prima e guardare prima chi no è questo qua ma non a questo è piccolissimo vediamo se esco a farvelo vedere allora l'orecchino è così in pratica si mette qui e mi piace tantissimo e poi ha una catenella catenella che viene giù riuscita a vederlo spero di si ha la terza ok questi sono un paio di orecchini tutti gli orecchini mi hanno mandato perché non ho voluto aprire la scatola perché così ho detto ho la sorpresa allora vedete come sono ben confezionati guardate c'è questa pasta alla spada eccoli guardate che belli da una parte avete mettete la spada e dall'altra c'è questo qui con due goccine bellissimo eccolo qui sono altri due ok più o meno come quello che vi ho fatto vedere prima quindi che si aggancia qua all'orecchio questa scusate che ho la molletta perché mi cadeva la la parrucca si aggancia qui ok si mette qui potete mettere anche due penso che ci siano anche due e questi sono gli orecchini scassi sono veramente piccoli 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 aspetta ecco ok qua si vedono bene questo era l'ultimo i miei gioielli precedenti che questo braccialetto che infatti si abbina alla mia collana e io lo metto però il come si dice il sabato e la domenica quando esco perché mi danno un po fastidio poi ho paura che quando esco con easy scusate ma devo sistemare perché sennò mi scivola un po perché dietro ripeto un tutto un bozzone quando esco così oppure che fa quindi questi li tengo solo per quando esco e l'altra catenina che metto insieme a questa come sono belli io lo metto su o il venerdì dipende quando esco li metto su e li tengo per tutti quindi simile a far la doccia la faccio via disco non sempre belli lucidi e questo è l'altro vedete anche questo è ancora stupendo certo poi che ho paura di rovinare per via cane passeggiate e robe varie e però guardate io ce l'ho sempre su questa collana questi orecchini ce li ho sempre sugli adoro mi piacciono tantissimo quindi niente vi consiglio di fare un bel regalo alla vostra mamma pensando ai gioielli di ana luisa profittate dello sconto del 20 per cento che non è poco adesso passiamo a un'altra cosa allora sono andata alla lidl un bel po di tempo fa ma avevo messo tutti i prodotti in questa corsa poi l'avevo messa da parte oddio scusate se continuo a truccarmi capelli e non la trovavo più quindi è passato tanto tempo io non lo so se questi prodotti alla lidl ci sono ancora ve li faccio vedere lo stesso perché volevo fare il video così poi iniziano ad usarli allora questo qui vabbè questo della garnier che il pur active l'ho preso per mio figlio per pulirsi il viso appunto perché lui ha problemi con l'acne e quindi niente poi invece proprio l'ho trovato sempre all'ido insieme ho comprato tutto insieme questo come si chiama è un body spray e si chiama spa moment guardate quanto è carino il suo perché è davvero bello vediamo ha un profumo delicato aspettate che vi apre un po perché è un pochino così un pochino forte quindi l'ho troppo preso per detto è particolare e si sa di la fragranza e di fiori e di fiori ed è body spray si è delicato delicatissimo il il suo profumo e niente vedremo poi nel tempo come a usarlo poi guardate anche questo quanto è bello io spero che lo trovate ancora però non non credo che ci sia ancora e questo qui è lo shower form quindi maglio doccia si dovrebbe essere un bagno doccia ed è fatto così vediamo se esce qualcosina ecco è una schiuma e una schiuma una te che bella e ha lo stesso identico profumo dell'ora di usarlo infatti volevo fare il video cosiddetto look poi come terzo prodotto è una crema per le mani e mi piace il fatto che è al dispenser quindi comoda perché easy mi ruba le creme in tubetto se le mangia invece questa qui spero proprio di no perché di solito questi prodotti fatti così tipo il sapone per le mani il sapone per lavare i piatti non li ruba mai anche se è diventata veramente tanto brava è adesso fa quasi niente di danni è veramente brava però ogni tanto le mie cose me le ruba e quindi io devo stare attenta quindi crema per le mani super comoda da tenermi vicino così magari al comodino e la sera per da letto me lo metto e poi questo qua invece che cos'è a per lavare le mani quindi un sapone per lavare le mani anche questo con dispenser con sicuramente lo stesso profumo si c'è scritto che ha la stessa profumazione e niente mi piace molto questa linea è veramente bella guardate veramente bella da tenere anche appunto sul bagno sul comodino è carina proprio carina allora ovviamente i prezzi non me li ricordo non li ho tenuti poi come ultimo prodotto è questa qui è una crema per il corpo in questo bel barattolone e diamo come la guardate che bella ora che vediamo si riesca a farvi vedere vedete che c'è viviamo ecco tutte le righine è un burro perché è duro è proprio un burro allora questo va bene per l'estate che farà il profumo veramente è veramente buono adesso si sente cioè delicato non è fastidioso però si sente di più e niente quindi ci abbiamo tutta la lista ai fiori poi cosa ho preso ancora allora ho preso questa maschera per gli occhi che era scontata del 30 per cento quindi l'ho pagata un euro e quattro non l'ho mai provata quindi sono curiosa e ah no sono tutte tre uguali ne ho prese tre ne ho prese tre quindi adesso stasera mi faccio una bella maschera occhi e questo è tutto per quanto riguarda lidl la borsa è vuota rimetto tutto dentro quindi siamo alla fine di questo video io vi consiglio di dare il sito di annaluisa andate a farvi un bel giro fate un bel regalo alla vostra mamma ma anche per fare un regalo a compleanno e compleanno qualsiasi regalo per natale per san valentino hanno tantissimi gioielli tra cui le collane i braccialetti orecchini quante le volete anelli cioè potete fare veramente dei regali bellissimi andate sul sicuro sulla qualità perché sono ottimi sono wow hanno due anni di garanzia quindi questo vi dice che loro sono sicuri che i gioielli non si rovinano ma io sono testimone perché li uso ormai da anni li ho sempre su e sono super belli neanche loro perdono cioè sono favolosi e io ve li straconsiglio vi lascio il mio codice sconto che debora 20 ma ve lo scrivo qua così non ci sbagliamo leggete sempre la descrizione mi raccomando pensate alle vostre mamme fate sempre dei berri pensierini anche piccoli ma alla mamma ci tiene tanto io non vedo sempre l'ora di che arriva la festa delle mamme per vedere cosa mi regala mio figlio quindi curate le vostre mamme che fanno tantissimo per voi è un piccolo regalo se lo merito mi raccomando oddio seguiti anche anna luisa su tutti e sui social perché è c'è su tiktok su tiktok sono sicurissima anzi farò un video anche per tiktok quindi vi aspetto anche lì a sostenermi mi raccomando e niente io vi mando un grosso vaga ci vediamo al prossimo video ma prima di andare via e raga facciamo festa a fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate della mia parrucca se mi sta bene questo colore ma fatemi sapere cosa ne pensate di questi super gioielli e se avete intenzione di regalare qualcosa sfruttando il mio codice sconto quindi vi lascio ora ciao al prossimo video ciao